Buonasera, il regalo ai Tarantini quali sono? Le strisce blu? Risponda, le strisce blu? Hai rovinato il Natale ai Tarantini con i parcheggi? L'hai rovinato il Natale, rispondi! Dove sta scritto che i residenti devono pagare? Rispondi, è il pomeriggio, rispondi! Per quale motivo devono pagare le persone? Hai rovinato il Natale ai Tarantini, ti puniranno in cabina elettorale! Rispondi, rispondi! I cittadini ci ricorderanno in campagna elettorale! Hai messo in città! Cosa spingi? Vergognati! Siete asserviti! Vedremo in campagna elettorale quanto vali! Vedremo! Non sai rispondere! Non sai rispondere! Democraticamente! Qual è il problema? Confrontati! Con il Covid stai aumentando i parcheggi!